In tutto il mondo ci sono persone che stanno facendo cose straordinarie e osse è al loro a fianco. In ambiente office le persone possono veicolare informazioni, prodotti e servizi in modo sempre più veloce grazie ai sistemi di gestione documentale osse. Rendiamo sempre più dinamico il vostro business per assicurarvi risultati eccezionali. Aggiungiamo valore alle vostre comunicazioni per portarvi verso nuovi orizzonti, trasformando i dati in fatturato con documenti personalizzati per una risposta più rapida e una maggiore soddisfazione dei clienti. OSE raggiunge le persone con informazioni personalizzate attraverso centri stampa e centri servizi che si rivolgono a settori con un elevato flusso di informazioni, diffondendo conoscenza attraverso i documenti per aiutarvi a raggiungere gli obiettivi della vostra vita. Architetti e progettisti di successo contano sull'aiuto di OSE per gestire la documentazione tecnica, per costruire edifici, infrastrutture, prodotti e servizi, dando una nuova dimensione a grandi ispirazioni. Abbiamo trovato nuovi modi per realizzare documenti essenziali per la vita della società, dai libri digitali alle pubblicazioni governative, prendendoci cura delle informazioni che cambiano il nostro mondo. Per l'outsourcing delle attività legate ai documenti potete contare su OSE Business Services, persone, processi e tecnologie, per migliorare la gestione documentale. Un'organizzazione che aiuta molte delle 500 aziende Fortune a focalizzarsi sul proprio core business. Dietro le quinte OSE aiuta le persone che costruiscono il nostro mondo, rendendo sempre più dinamico il business in ambiente office, trasformando i dati in comunicazione mirata, trasmettendo conoscenze nei centri stampa e nei centri servizi, dando una nuova dimensione al documento tecnico, facendo scorrere informazioni vitali nella stampa digitale e nell'editoria e dando forma all'immaginazione con la comunicazione visiva. Vi aiutiamo ad andare ben oltre all'ordinario con la stampa e la gestione documentale. Grazie a tutti.